eccoci qua 3 2 1 check si gira bentornati sul nostro canale siamo francesca e roberto e per la nostra rubrica travel and geek oggi vi raccontiamo di che cosa della panasonic g9 ma prima sigla panasonic oggi panasonic l'ennesima panasonic perché quante ne hai provate ma non mi ricordo quando le ho provate ne ho provate tante devo dire che è un generale un brand che produce delle ottime macchine fotografiche che mi piacciono tantissimo per varie ragioni abbiamo provato cos'è la gx8 la g 80 la gh4 e adesso la g9 le trovate qua e le altre tutte le video recensioni se volete andare ad approfondire raccontaci di lei oggi vi racconto di lei della panasonic g9 la g9 è una mirrorless è la top di gamma di panasonic tra le caratteristiche tecniche di questa macchina troviamo il monitor smontabile a 360 gradi caratteristica tipica delle panasonic in quanto spesso orientate al video making tutta una serie di dotazioni di ieri che a me come sapete piacciono tantissimo un sacco di pulsanti di prima funzione per personalizzarla come volete voi e diciamo così alcune cose aggiuntive insomma che non possono prescindere sulla top di gamma cioè l'ingresso per il microfono l'ingresso per la cuffia eccola qua e tutta una serie di ingressi vari tipo la porta hdmi a grandezza intera e la porta micro usb di tipo c che permette anche di ricaricarla durante l'uso quindi questa caratteristica non banale tra l'altro questa è tropicalizzata questa è una macchina tropicalizzata quindi la potrete utilizzare in tutte le condizioni climatiche diciamo così poi state sempre attenti perché insomma con questi gioielli è meglio sempre fare l'attenzione mettetela nell'acqua e questo no allora pesa pesa si pesa circa un chilo con questo obiettivo che trovate in kit il 1260 circa 680 grammi invece per il solo corpo e ha un sensore ha stabilizzato sui cinque assi quindi anche la stabilizzazione ottica oltre a quella che potete trovare sugli obiettivi che può funzionare anche in sincronia e quindi insomma a questa macchina non manca niente a parte il flash che però diciamo per i target a cui dedicata forse non è una grave mancanza esatto perché in realtà questo è il modello top 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 ma è il modello che costa più o meno 2000 euro si al momento su internet la trovate circa 1900 euro che non è poco eh non è poco ma soprattutto cosa dovrebbe spingere un fotografo un amante della fotografia a spendere circa 1000 euro in più giusto rispetto alla giottanta per esempio ci questa è una domanda che mi sono fatto una bella domanda in realtà che è una domanda che mi sono fatto più volte no perché dovrei comprare questo tipo di apparecchio rispetto magari alla sorellina minore che è la g80 perché ci sono alcune che pensate proprio per il fotografo professionista o l'ultra amatore diciamo così o veramente l'appassionato che desidera avere quelle caratteristiche che magari sul medio di gamma o il medio alto di gamma non si riescono a trovare allora una prima caratteristica che devo sottolineare è la presenza del doppio slot per le schede sd per chi la usa come strumento di lavoro infatti avere due sd è fondamentale sai potrebbe sempre succedere che una scheda sd si bruci con questo sistema si ha la possibilità di avere le immagini e i video backupati sulla seconda scheda in tempo reale per cui non c'è mai il rischio di perdere il lavoro fatto immaginate se dovete fare un servizio fotografico e poi tornate a casa e la scheda è bruciata e non ci niente non potete giustificarlo con il vostro cliente con questa cosa ho tipo un video di viaggio che scopri di aver cancellato ma lì c'era l'errore umano l'ho fatto io senza volerlo ogni tanto sono un po' distratto questo è sicuramente un elemento che fa prendere la bilancia sul fatto di dire vado su un modello professionale rispetto a uno un po' inferiore poi ci sono altre caratteristiche che non sono magari essenziali ma sono molto comode e che quindi rendono il lavoro del fotografo più semplice per esempio su questa camera in particolare troviamo un secondo monitor qui sopra che all'accensione vedete vi permette di vedere gli iso di vedere insomma le caratteristiche della macchina in quel momento a cosa serve questo doppio monitor beh in realtà tutte le informazioni sono replicate però se state scattando dall'alto è chiaramente più comodo quindi sono piccole finezze che vi aiutano a migliorare a velocizzare quello che state facendo e avere un comfort maggiore e queste cose insomma il professionista le apprezza e anche insomma è l'amatore evoluto e spesso le cerca e quindi panasonic è la prima volta che fa una cosa così su una delle sue macchine è un di più molto molto gradito poi a livello di altre funzionalità che si possono trovare su questa macchina e per esempio sulla panasonic g80 non ci sono c'è la presenza di questo joystick il joystick è anche questo caso qualcosa di superfluo il joystick potrebbe essere tranquillamente sostituito dal touch screen per esempio per selezionare il punto di messa a fuoco però è anche vero che se voi utilizzate il minino in questo modo qui muovere alla cieca il screen è più difficile rispetto ad avere uno strumento di comando fisico come il joystick tra l'altro funziona anche molto bene quindi non è essenziale però è qualcosa che sicuramente la differenza dalle macchine di categoria inferiore altre caratteristiche che sono carine da vedere su questa macchina qua che non ci sono sulle altre è per esempio la possibilità di impostare la visualizzazione del monitor sulla visione notturna quindi il monitor quando impostate questa questa modalità diventa tutto rosso insomma fosfori rossi e a parte vabbè l'effetto un po flescioso però è molto comodo se scattate per esempio in notturna se fate dei safari fotografici notturni il monitor così in questo modo non vi accetta questo è una funzionalità in più che esiste poi un'altra cosa molto molto importante se amate fare per esempio i time lapse è la possibilità di caricare la macchina direttamente da una carica batteria esterno quindi potete attaccare un power bank e aumentare di molto la capacità già notevole di scatti che può fare questa macchina qua non l'ho detto prima tra le caratteristiche lo dico adesso a livello di numero di scatti che potete fare con una sola carica siamo intorno ai 400 420 se usate insomma non usate nessun tipo di risparmio energetico ma potete se spegnete lo schermo se usate con accortezza arrivare fino a 920 scatti quindi comunque un giorno due di sessioni di shooting in caso di mancanza di corrente potete comunque farli però in caso per esempio di ci si può attaccare la batteria attaccate power bank perché vi assicuro che in certe zone non la trovate corrente e questo questo fa proprio capire come questo sia il target di indirizzo un'altra cosa che fa sorridere è la mancanza del flash integrato non esiste un flash integrato un amatore potrebbe dire il flash è sempre meglio averlo in realtà il professionista chiaramente non userà mai questo tipo di flash e quindi Panasonic ha deciso proprio di non metterlo e di utilizzare se volete il flash utilizzare l'apposita per collegarne uno esterno rispetto alla G80 poi il sensore qui guadagna qualche megapixel non che questo sia fondamentale però se realizzate stampe in grande formato per esempio per pubblicità o cose così il fatto di avere più megapixel vi permette di diciamo avere una risoluzione migliore quindi di fare ingrandimenti superiori c'è ovviamente un rovescio della medaglia in questo ed è dettato al fatto che comunque il sensore le dimensioni del sensore sono sempre quelle del micro 4 terze quindi crescendo il numero di megapixel diminuisce la dimensione del pixel quindi anche la quantità di luce che entra all'interno di ogni singolo pixel e quindi potreste avere un po più di rumore che comunque la macchina gestisce bene fino a 6400 iso circa quindi diciamo che a livello qualitativo gli scatti sono sempre eccellenti quindi non ho mai avuto problemi di questo tipo poi altra cosa che questa macchina rispetto alle sorelle un pochino più inferiori mettiamola così e il fatto di avere una grandissima raffica è capace infatti di scattare fino a 20 frame per secondo e con un buffer limitato per cui veramente qui se volete scattare a soggetti movimento e fare delle raffiche in continuazione problemi non ne avete e devo dire è una caratteristica top quindi ci hai raccontato un pochino di lei e di quelle che sono le sue caratteristiche diciamo speciali perché lei un nome si chiama sofia ma la domanda vera è vale la pena di spendere mille euro mai contati per prendere questa macchina rispetto appunto la tanto cara g80 la g80 è questa è una bella domanda è una bella domanda mi sono interrogato tanto su questa cosa la g80 l'avevo definita come la best buy per un rapporto qualità prezzo la g9 non mi sento di dire che è un best buy come rapporto qualità prezzo però sicuramente una macchina che ha caratteristiche top se uno cerca il meglio in ambito panasonic e non solo questa è una macchina assolutamente eccellente ha una messa a fuoco fantastica tutte le caratteristiche che possono servire a un fotografo professionista ha tantissime ghiere super personalizzabili e l'immagine sempre precisa perfetta in praticamente tutte le condizioni di luce anche l'obiettivo in kit si comporta benissimo insomma è stabilizzata è tropicalizzata insomma ha tutto ok quindi ne vale la pena dipende dipende che cosa cercate se siete dei super appassionati o siete dei professionisti senz'altro mille euro è pochissimo non percepirete costanto la spesa se siete invece un amatore che si approccia al video si approccia alla fotografia vuole ottenere tante cose ma probabilmente no mille euro non ne vale la pena è più del doppio rispetto a quello che potete già ottenere con la ottima panasonic g80 e incrociate le dita perché non mi si bruci la scheda e incrociate le dita che si abbassimo la cambiate insomma diciamo che dipende da che utilizzo le fatele è chiaro che per un amatore normale io direi che quell'altro è più che sufficiente qui è proprio se volete il top ma avrà dei rifetti perché? allora c'è qualche contro come la moglie come la moglie si però la moglie si ama si sposa e la panasonic è uguale no? allora diciamo che c'è qualche rovescio della medaglia questa macchina si tiene bene in mano un bel corpo così in mano comincia ad essere abbastanza voluminosa e pesantuccia anche cioè quindi non è più una macchina mirrorless come eravamo abituati a vederle il fatto di avere il sistema mirrorless che ti permette di togliere lo specchio ti permette di fare corpi macchina più contenuti più leggeri eccetera questo è ancora vero perché pesa sicuramente meno ed è sicuramente più compatta rispetto a una reflex tradizionale però insomma qui arriviamo quasi a un chilo di peso così come la vedete montata che non sono pochi alla lunga un po' si fanno sentire anche a livello di maneggevolezza io che ho le mani grandi la tengo bene in mano eh facciamo tutte le dita facciamo la differenza io vabbè sapete che ok ok adesso dai tenuta ben troppo adesso dalla me a papino allora quindi sì la tieni bene in mano è sicuramente confortevole da tenere però è comunque più ingombrante diciamo che non passate inosservati quando girate con una macchina di questo tipo ecco questa cosa qua è una cosa che dovete considerare nel senso che quando ovviamente si fa come nel nostro caso la fotografia che per noi è un lavoro ma è un lavoro che viene fatto prevalentemente in viaggio una macchina di questo genere non è che la metti nella borsetta esatto e questa è una cosa la seconda cosa qua mi permetto di dirlo io perché è vero che il fotografo è lui però capita anche a me di scattare e posso dire che per esempio per me cioè per la mia costituzione dopo un po' questa senti nel senso che comunque il peso cioè sia nel peso di scavaggio del timelapse fatto al volo sia nel peso invece di design insomma quindi questo sicuramente sì sì poi per un uso da professionista questi sono peanuts però per un uso amatoriale questo può incidere sicuramente per cui sì questi qua sono i principali diciamo così difettucci di questa macchina che sono insomma sono caratteristiche volute probabilmente non sono difetti veri e propri va bene allora abbiamo raccontato di lei abbiamo raccontato di noi abbiamo raccontato degli altri sembra un triangolo no? gli altri e le altre le trovate qua qui non c'è resta che dirvi se volete saperne di più sulle altre Panasonic che abbiamo testato in questi anni o trovare in descrizione i link o li trovate qua sopra se volete saperne di più lasciateci un commento è vero e se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e iscrivetevi al canale selezionando la campanella così non vi proverete le prossime recensioni ciao ciao a presto Panasonic per tutti fai attenzione mi raccomando fai attenzione al mio gioiello è il mio tesoro a presto a presto a presto